Fisco scatta oggi il Tax Free Day per le imprese, si chiude la fase dell'anno in cui gli imprenditori hanno lavorato solo per pagare le tasse. Cade oggi il Tax Free Day per le piccole e medie imprese, in pratica si chiude la fase dell'anno in cui hanno lavorato solo per pagare le tasse. Una festa ma anche una pausa di riflessione a Roma alla CNA, il servizio di Massimo Tinagli. Aria di festa al CNA di Roma, si fa un brindisi, si spengono le candeline, si taglia la torta. Una torta per tre quarti arancione e un quarto verde, sopra c'è scritto 103 come i giorni dell'anno nei quali gli imprenditori mettono nella propria tasca realmente ciò che hanno guadagnato. Il resto sono giorni lavorativi per pagare le tasse nazionali e locali. La fetta ancora più piccola, quella rossa, con il numero 7 rappresenta i giorni che le imprese avrebbero potuto guadagnare se il Campidoglio avesse applicato il regolamento sui rifiuti. Da uno studio su scala nazionale emerge che le piccole e medie imprese romane, dal primo posto di due anni fa, sono passate al terzo posto in termini di tassazione dopo Reggio Calabria e Bologna. Esiste un solo modo per quanto riguarda Roma, è quello di rivedere la Tari, così come è stato fatto in tantissime città italiane. Nel caso in cui anche l'amministrazione comunale dovesse accogliere la possibilità di una riduzione della Tari, l'anno prossimo avremo la soddisfazione di non essere più tra i medagliati delle tasse. Analizzando un'attività tipo, un piccolo imprenditore che utilizza un laboratorio artigiano di 350 metri quadri e un negozio destinato alla vendita di 175 metri quadri, con quattro operai e un dipendente, attrezzature, mobili, macchine d'ufficio e un automezzo per il trasporto, percepisce un reddito di circa 50.000 euro. La fetta di guadagno si riduce a 15.000 euro con il 71% che finisce al fisco. Circa la metà di queste tasse imposte finisce nelle casse del Comune e Regione. Ben 14 milioni di euro sono per l'Imu, la Tasi e la Tari, dunque un conto salatissimo. Una piccola impresa dedica molto tempo per quelle che sono le incombenze dello Stato e del Comune e della Regione, rendendo questo non un paradiso fiscale ma qualcosa molto simile a un inferno fiscale.